Siamo nell'organismo di conciliazione forense dell'ordine degli avvocati, una porta aperta sulla giustizia, una porta aperta su sistemi di risoluzione alternativi delle controversie, un organismo creato dagli avvocati per gli avvocati, dagli avvocati per i cittadini e quindi per la giustizia, dove si svolgono le mediazioni forensi, dove si svolgono le mediazioni in campo civile, commerciale e familiare. Queste sono le stanze, i locali, attrezzati, comodi, accessibili in via Freguglia, angolo dello San Barnaba, quindi a due passi dal Palazzo Giustizia, dove operano personale qualificato e mediatori, anch'essi altamente qualificati e di grande esperienza. Tutta la mediazione è accessibile adesso anche online, direttamente quindi da remoto, da studio, da ovunque, quindi l'intera procedura, dal deposito alla domanda, allo svolgimento effettivo della mediazione, si può fare in modo online, in quanto tutta la procedura è stata digitalizzata. Questo è l'organismo di mediazione forense dell'ordine degli avvocati, appunto un luogo accessibile, facile, veloce, dove poter risolvere le controversie e dove incontrare personale qualificato e mediatori qualificati che aiutano quindi allo svolgimento della mediazione.